Com'è il bastone? Combina i bastoni? No, è già qua prima, oggi non vedi. 46 142 Non è solo! C'è qualcosa che può passare il tuo paine. And I'm bored, I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you wakes me awake. C'è la tuaátora I'll leave. Che prigge Cheap ma Sì 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 Sì